Bentrovati all'ascolto, io sono Alessia Ricci della redazione e questa è una nuova puntata di 5 minuti con la BCC, in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo Felsinia. Oggi parliamo di Green Deal e di Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e lo facciamo con Chiara Manisco che è referente ISG e lavora nel servizio pianificazione e controllo di gestione di BCC Felsinia. Intanto la salutiamo, Chiara, bentrovata. Ciao Alessia, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito. Questa puntata l'avete chiamata il Green Deal e l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Facciamo un po' una panoramica su questo tema anche per capire di che cosa parleremo. Sì, sì certo. Allora, la puntata di oggi è collegata ovviamente al campo della sostenibilità, l'abbiamo già affrontato in varie sfaccettature in alcune delle puntate precedenti, in particolare con riferimento all'ambito ISG che è un acronimo che sta per Environmental, Social e Governance. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che l'acronimo richiama la necessità di integrare aspetti di responsabilità ambientale, sociale e di buon governo nelle prossime di sviluppo sostenibile. Ecco, la puntata di oggi poi ha lo scopo di ricordarci che siamo tutti chiamati ad affrontare la sfida comune del costruire un futuro sostenibile contribuendo a contrastare e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Ma spiegaci a questo punto cosa si intende proprio per Green Deal? Cioè, cosa ha a che fare con tutto questo? Ecco, purtroppo penso che ormai sia un po' sotto gli occhi di tutti quanto sia importante che il nostro pianeta sia in un buon stato di salute. Temperature bollenti, grandinate improvvise e violentissime, bombe d'acqua, alluvioni sono solo alcuni degli eventi atmosferici estremi che una volta si verificavano di rado e oggi invece sembrano sempre più frequenti. Per garantire il benessere del nostro pianeta, quindi i paesi dell'Unione Europea si sono impegnati proprio nel Green Deal, che è un pacchetto di iniziative strategiche per permettere una transizione verde e raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, ovviamente ponendosi un obiettivo intermedio di riduzione di almeno il 55% delle emissioni entro il 2030 in Europa. Il Green Deal europeo è stato quindi avviato dalla Commissione europea nel dicembre del 2019 ed evidenzia però la necessità di un approccio nel quale tutti i settori strategici coinvolti contribuiscano all'obiettivo finale in materia di clima, altrimenti non sarebbe possibile il raggiungimento dell'obiettivo. Il principio fondante è quello della crescita verde. Cosa significa? Significa che si punta ad una crescita economica però in un contesto di sostenibilità. Il pacchetto comprende poi iniziative riguardanti il clima, l'ambiente, l'energia, i trasporti, l'industria, l'agricoltura, la finanza sostenibile che poi, se ci pensiamo, sono tutti i settori fortemente correlati tra di loro. Ah certo, è vero. Ma Chiara ci indicheresti anche quali sono le aree d'azione del Green Deal? Sì, sì certo. Allora, tra le aree abbiamo l'edilizia risparmio energetico, l'economia circolare, l'energia pulita, sistemi alimentari sostenibili, la mobilità intelligente, la protezione degli ecosistemi e ovviamente, ultimo ma non per importanza, ambienti liberi dall'inquinamento. Questa per l'Unione Europea è stata proprio una vera e propria scommessa perché l'UE ha previsto più di mille miliardi di euro per questa transizione. Quindi, insomma, un impegno importante. Per tradurre tutto ciò in termini più concreti, poi sono state definite una serie di attività che riguardano azioni come, per esempio, non so, la riduzione dell'uso dei pesticidi, se pensiamo all'agricoltura, oppure il passaggio ad energia da fonti rinnovabili, l'ampliamento delle superfici protette in Europa, ma anche molte altre. Ecco, spero che questi esempi possano rendere un po' più il concetto, ecco, sono come sempre qualcosa di più concreto. Vorrei però anche ricordare che in realtà il Green Deal è stato preceduto ed ispirato da un altro programma, possiamo definirlo un po' un precursore, che è nato nel 2015 e che è tuttora esistente e ha coinvolto ben molti più stati e stiamo parlando dell'agenda 2030. Esatto, ecco, adesso ti chiediamo anche di raccontarci qualcosa in più su questo, anche perché è un tema interessante e vorremmo proprio sapere chi è stato coinvolto in questo programma. L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità ed è stato sottoscritto dai governi di ben 193 paesi che sono poi i membri dell'ONU. In realtà probabilmente i nostri ascoltatori hanno già sentito di questa agenda 2030. Si fonda sulla definizione di 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile che sono anche conosciuti come i Sustainable Development Goals. Poi questi 17 obiettivi sono stati declinati in 169 sottobiettivi che i paesi sottoscrittori si sono impegnati a raggiungere entro il 2030. Quindi non stiamo parlando solo di linee guida ma di un vero e proprio impegno delle nazioni che hanno sottoscritto questo programma. Quindi sono 15 anni di tempo per 169 traguardi, 15 anni per 17 obiettivi e 15 anni per un mondo più sostenibile. Ora, forse vi starete chiedendo che tipi di obiettivi sono. Purtroppo gli obiettivi non sono proprio semplicissimi da raggiungere perché, per esempio, si parla di porre fine ad ogni forma di povertà e alla fame del mondo, oppure assicurare la salute e il benessere per tutti, offrire a tutti un'istruzione di qualità, raggiungere l'uguaglianza di genere, ridurre le disuguaglianze, garantire a tutti acqua pulita e igiene e molti molti altri ancora. La strategia per il raggiungimento degli obiettivi ruota attorno alle famose 5P dello sviluppo sostenibile, che sono poi persone, pianeta, prosperità, pace e partnership. Insomma, una vera sfida che ci vede oggi a poco più di metà strada rispetto ai 15 anni di tempo a disposizione. E in questi 8 anni noi come ce la siamo cavata, Chiara? Insomma, diciamo che abbiamo fatto dei progressi però in maniera piuttosto disomogenea. Infatti l'ONU ci racconta che solo una piccola parte degli obiettivi è sulla buona strada per essere effettivamente raggiunto. La maggior parte degli obiettivi mostra progressi piuttosto limitati, alcuni sono addirittura in peggioramento rispetto al 2015. Poi sai, i progressi sono anche molto diversi considerando i diversi stati che hanno aderito. Però ecco, io oggi vorrei trasmettere un messaggio positivo ai nostri ascoltatori perché i segnali positivi ci sono. Basta guardare gli obiettivi nei quali abbiamo fatto, insomma, i maggiori progressi. Quindi secondo me, insomma, abbiamo ancora del tempo a disposizione per un bello sprint finale. Mettiamocela tutta, dai. Saluto allora Chiara Manisco per essere stata qua con noi oggi del servizio pianificazione e controllo di gestione di BCC Felsinia e referente ISG. Questa puntata, lo ricordo, aveva avuto come tema il Green Deal e l'agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Chiara, grazie, buon lavoro, ci sentiamo presto. Ciao, grazie. Cinque minuti con la BCC termina qua. Grazie per l'ascolto, buon proseguimento qua su Radio RDM.